Udite udite, si torna a parlare di Ubisoft. Eh sì, beh, ciao a tutti, sono Roboogin, e oggi voglio parlarvi di una situazione che potrebbe cambiare profondamente il mondo dei videogiochi. Ubisoft, uno dei colossi del settore, sembra trovarsi davanti a una svolta decisiva. Eh no, non sto parlando dell'ennesimo capitolo di Assassin's Creed ambientato, o non lo so, a me giugori, tipo. Prima di iniziare vi ricordo che potete seguirmi sul mio canale News di Telegram, trovate il link in descrizione, così resterete sempre aggiornati su tutte le novità, e proprio se non riuscite ad attendere potete abbonarvi qui su YouTube per vedere i nuovi video. Ma torniamo a noi, CVC farà sempre più insistentemente che Ubisoft potrebbe essere venduta, sì, avete capito bene, e tra i potenziali acquirenti spunta un nome che potrebbe sorprendere molti, Tencent. Secondo diverse fonti, il gigante cinese sarebbe interessato ad acquisire l'intera Ubisoft. Insider Gaming ha pubblicato un articolo che sembra confermare queste indiscrezioni, rendendo la situazione ancora più intrigante. Per chi non lo sapesse, Tencent non è nuova a operazioni di questo tipo. Possiede già una porzione enorme dell'industria videoludica, con partecipazioni in aziende come Riot Games, i creatori di League of Legends per l'appunto, ma è una quota del 40% in Epic Games, noti per Fortnite. Inoltre, gestisce servizi come WeChat, QQ e investiti in Scadence Media, ma non è tutto, Tencent detiene anche circa il 30% di Larian Studios, gli sviluppatori di Baldur's Gate 3. Insomma, sembra avere le mani in pasta un po' ovunque. Attualmente Tencent possiede circa il 10-15% delle azioni di Ubisoft, considerando che Ubisoft ha visto una perdita del valore del 90% nel 2020, questa partecipazione equivale a circa 100 milioni di dollari, una cifra che fa riflettere soprattutto se pensiamo che un tempo con la stessa quota valeva oltre un miliardo. Una delle ipotesi sul tavolo è che Tencent possa rendere Ubisoft un'azienda privata. Per chi non ha familiarità con il mondo della finanza aziendale, questo significherebbe che Ubisoft non sarebbe più quotata in borsa, liberandosi dalle pressioni degli azionisti pubblici. Ciò potrebbe permettere decisioni più rapide mirate. È forse un ritorno alla creatività che ha reso grande questa azienda, o almeno questo è ciò che molti sperano. Ma c'è un altro aspetto interessante in questa storia. Yes Gilmour, CEO di Ubisoft da lontano 88, quando molti di noi giocavano ancora con il Game Boy, ha recentemente affermato che i giocatori hanno aspettative troppo elevate. In un mercato competitivo come quello attuale, dice, offrire una qualità solida non è più sufficiente. Beh, se per qualità solida si intende l'ennesimo open world pieno di attività ripetitive, forse ha preso un punto. Nel frattempo, titoli come i Suicide Squad faticano a conquistare il pubblico. L'ultima stagione ha registrato circa 200 giocatori su Steam, non esattamente numeri esaltanti per un titolo su cui si puntava molto. Ne abbiamo già parlato in un video precedente qui sul canale, ma per chi se lo fosse perso, sembra che nonostante la presenza di personaggi teoricamente interessanti e trame che dovrebbero appassionare, i giocatori non siano particolarmente entusiasti. Forse inserire personaggi descritti come ladri etici o idealisti rivoluzionari, non era la strategia vincente che pensavano. Ma torniamo a Ubisoft. La compagnia ha visto un declino notevole negli ultimi anni. Alcuni attribuiscono questo al fatto che abbia cercato di seguire tendenze passeggere o mode del momento, invece di concentrarsi su ciò che i giocatori realmente desiderano. Altri puntano il dito contro le microtransazioni invasive e le strategie di monetizzazione aggressive. In ogni caso è evidente che qualcosa non sta funzionando. Un direttore della monetizzazione di Ubisoft ha espresso il suo disappunto sui social media riguardo alle critiche ricevute. Ha affermato di essere triste e deluso dal modo in cui i giocatori reagiscono, augurando il fallimento alle aziende ad esempio. Comprensibile? Certo, ma forse è il momento di ascoltare davvero i commenti della community? No? Dopotutto i giocatori sono coloro che in fin dei conti sostengono l'industria con il loro entusiasmo e il loro portafoglio. È fondamentale ricordare che l'industria dei videogiochi esiste grazie ai giocatori. Se i titoli non soddisfano le aspettative è naturale che emergano critiche. E forse invece di incolpare il pubblico, sarebbe utile riflettere su come migliorare le cose. Non fraintendetemi, amo i videogiochi. Sono una forma d'arte, un modo per evadere dalla realtà e vivere avventure incredibili. Chi non ricorda il primo videogioco di cui ci siamo innamorati o per cui abbiamo pianto? O quando abbiamo esplorato la galassa in Mass Effect? Sì, probabilmente quella è una mia fissa, ma va bene così. Questi momenti sono indimenticabili e mi piacerebbe che le nuove generazioni possano vivere esperienze simili. Ci sono ancora giochi che riescono a emozionare e a innovare. Titoli come Baldur's Gate 3 di Laria Studios, che essendo un'azienda privata ha potuto prendere decisioni importanti senza dover rendere conto a migliaia di azionisti, è un esempio. Ricordiamo che Tencent, come abbiamo detto prima, detiene il 30% di Laria Studios, quindi la sua influenza si estende anche lì. L'industria ha bisogno di un cambiamento? Probabilmente sì. Forse è giunto il momento di tornare a concentrarsi sulla creatività, sull'innovazione e sull'ascoltare i giocatori. Invece di rincorrere mode passeggere o inserire microtransazioni ovunque, le aziende potrebbero dedicarsi a creare giochi che le persone desiderano davvero giocare, invece che giustificare sempre tutto cuori costi per poi vedere assegni di centinaia di milioni allargiti a fine anno solo verso gli amministratori delegati, mentre vediamo aziende chiudere. Il futuro di Ubisoft è incerto, che venga acquistato a Tencent o che trovi un modo per risollevarsi autonomamente. Speriamo che possa tornare a regalarci quei titoli che ci hanno fatto innamorare dei videogiochi. E chissà, magari il prossimo Assassin's Creed ci sorprenderà davvero, forse ambientato nella preistoria, con missioni secondarie e boh, meno ripetitive magari. Non ci resta che attendere, oppure sì, sarebbe bello un nuovo Splinter Cell, no? Ora che non c'è più nemmeno Metal Gear, no? Prima di salutarvi vi invito ad iscrivervi al mio canale, lascia un like se il video vi è piaciuto e se volete supportare il mio lavoro potete dare un'occhiata al mio merchandise, trovate tutti i link in descrizione. Grazie mille per il vostro tempo, io sono Robugin e noi ci vediamo sul campo. Grazie mille per il vostro tempo.